L'assessore con delega al demanio marittimo Dino Pepe, questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede della regione in Viale Bovio a Pescara ha parlato delle novità introdotte dal nuovo piano demaniale marittimo. Si tratta di un importante strumento di pianificazione che dopo l'approvazione da parte della giunta regionale dovrà passare al vaglio del consiglio. Un risultato importante, martedì scorso abbiamo approvato in giunta regionale il nuovo piano demaniale marittimo, uno strumento assolutamente voluto e condiviso dalle amministrazioni comunali, dalle associazioni ambientaliste e anche e soprattutto dall'associazione degli albergatori e dei balneatori. Uno strumento che pianifica il nostro territorio, il nostro arenile in maniera particolare, riserva il 20% e oltre per le spiagge libere, tutela le fasce deboli, un'attenzione particolare in questo momento di crisi economica delle fasce deboli, degli incapienti, ma soprattutto vuole tutelare a livello di natura, a livello di ambiente il nostro arenile. Autorizziamo solo interventi di bioarchitetture, rispettose dell'ambiente, queste sono le linee guide del nuovo piano demaniale. Avranno un anno di tempo per adeguarsi alle linee guide del nostro piano demaniale, ma lo ripeto, uno strumento assolutamente condiviso, un ottimo lavoro fatto anche dal mio predecessore Mauro Di Dalmazio, dagli uffici che ringrazio perché c'è stata un'ottima concertazione con le amministrazioni comunali, con le associazioni e con tutti i portatori di interesse.